ciao ragazze benvenute sul mio canale di youtube qua come vedete voglio presentarvi questa bellissima linea di tiziana bellini guardate che bellissimo questo packaging tv e sta per tiziana bellini e qua mentre estendevo questo semi permanente ho detto dai perché no e mostrarvi qua a tutti voi e questi prodotti questo è l'olivo guardate che bello è un blu notte guardate qua ho applicato una sola passata di colore sono molto contenta di questi prodotti perché veramente sono abbastanza corposi e guardate guardate coprono abbastanza bene questa è la volta del boston guardate un po che colore è ecco è il colore che in tante di voi è stato che state cercando e tiziana bellini ce l'ha e io che l'ho comprato questo è un colore che sta andando a ruba come si dice sto continuando a fare questo colore qua e guardate che bello è il boston guardate come estendo il colore scusate quale inquadratura ma tra la videocamera e fare il lavoro è un po scomodo allora guardate qua a questo punto io mando lampada per due minuti estendo una seconda passata di colore per uniformare un po il tutto il rendere più bello il colore questo è il central park un bellissimo colore verde acido inizio a stenderlo qua basta una sola passata di colore questa è la volta del washington guardate che bello questo colore qua io non vi so descrivere questo colore perché tra un blu è strano e un viola guardate ho esteso la prima passata e da una seconda questo è il loop anche questo un bellissimo colore qua vi mostra un po il peggagin tutto dalla bottiglietta e l'inci qua inizio a stenderlo do una passata di colore questo è il monte carlo è l'ultimo colore che vi presento ma no è il meno importante questo qua è stupendo adesso vi mostro il prodotto nelle stessura anche questo ho applicato solo una sola passata di colore questo che vi sto mostrando è la bassa e anche il sigillante per il semi permanente e non solo perché questo e stesso prodotto si può utilizzare per sigillare il gel e anche acrilico e ha una bellissima tenuta ho visto dei lavori che mi avevano mostrato delle ragazze all'open day che loro hanno dei centri estetici ragazze perfette le unghie dopo tre settimane niente sbaccamento e anche ancora lucide e questo quello che vogliamo tutti noi unico tecnica un prodotto che ci fa facilite le cose se un ottimo prodotto qua come vedete vi sto mostrando la carrellata dei prodotti che ho utilizzato anche il semi permanente possiamo utilizzarlo per estenderlo come color gel se questo è fantastico io ho comprato questi colori qua in non mi fermo qua perché prenderò ancora altri prodotti dei colori bellissimi che ho visto perché c'è ragazzi con un solo prodotto faccio una spezza e posso utilizzarlo tanto per i semi permanente anche per il gel c'è fantastica questa cosa qua poi ha una gamma di colore e stupendi e questo è il top guardate la borsettina dove mi hanno messo dentro i prodotti ditemi se non è bella guardate che packaging guardate la linea di questi prodotti qua ecco si vede la fattura del pagamento che ho fatto guardate anche la bellezza di questo pennello che ho acquistato è stupendo qua ve lo mostro nel dettaglio guardate che packaging è firmato tiziana bellini guardate qua dentro in questa parte qua trasparente questi cristalli ha una bellezza una luce passesca è in metallo qua vi sto mostrando proprio tutte le sue parti vi metterò qua sotto all'info box tutta l'informazione per collegarvi lì con tiziana bellini magari l'indicazione della sua pagina facebook e anche il suo numero di telefono se avete bisogno contattata da lei io sono stata una cliente che mi sono trovata molto bene con questi acquisti qua e ve lo sto mostrando guardate questo pennello mi piace tantissimo niente ragazze vi saluto grazie per la vostra visualizzazione e al prossimo video ciao